Però, so che voi... Io di solito, come sapete, non faccio mai annunci di cose che non abbiamo concluso, di cui non abbiamo finalizzato, eccetera. Però so che questa è un'occasione un po' speciale, per cui mi sento un po' di potermi sbilanciare con la, diciamo così, riserva che il contratto non è ancora stato concluso, lo stiamo portando avanti, con la speranza ovviamente che, come spesso succede con i nostri contratti, vada a buon fine, però, come altre volte è successo, le cose possono anche andare in un altro modo. Però, insomma, tagliando corto è kill a kill. Allora, placate le vostre ardenti, perché ripeto, ribadisco, al 90% ce lo portiamo a casa e lo facciamo doppiato con tutti i crismi, in anteprima, su vid, eccetera, eccetera. Ma, ripeto, qui lo dico, qui lo nego, io non l'avrei potuto fare questo, chiamiamolo annuncio. Non è l'annuncio dell'acquisizione, è l'annuncio della trattativa, ok? Quindi speriamo, ovviamente, a dita incrociate, se tutto va bene avremo anche kill a kill, però bisogna aspettare. Aspettate l'annuncio ufficiale sul nostro sito. Aspettate l'annuncio ufficiale sul nostro sito.